Stefania Antidormi, ma anche Roberta Di Pascasio, ma vicino a me pure Aleandro Mariani, per rappresentare la Commissione Cultura in Comune ad Avezzano. Allora, questi eventi tutti belli, selettivi, ma comunque d'aggregazione per tutte le famiglie della città e non soltanto, vogliono essere propulsivi pure per tutta la Marsica e per il centro Italia. Mi sbaglio? No, assolutamente. Il nostro criterio di valutazione che abbiamo fatto insieme anche agli altri componenti, Claudia Scipioni e Mafalda Di Berardino, è stato quello proprio di creare un'identità territoriale, valorizzando quelli che sono gli artisti locali, ma puntando anche ad una visione di qualità. Fare cultura deve diventare un valore aggiunto per questa città, quindi farla bene con le nostre associazioni, con le nostre artisti, ma anche proiettandoci ad aumentare la qualità e invitando gli anni prossimi dei artisti di fama internazionale. So che lei affretta insieme con gli altri componenti della Commissione. Aleandro Mariani canterà? No, no. Quest'anno no. Stiamo vedendo, vorremmo fare un trio, stiamo facendo le prove. Adesso, appena che chiudiamo le prove, vediamo l'azio. Si scherza ovviamente. In bocca al lupo alla Commissione Cultura del Comune di Avezzano. Buon lavoro. Grazie, grazie a voi.